Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentorni al mio canale, io sono Ragengest, oggi 24 agosto 2022, vediamo cosa c'è di disponibile nei negozi oggetti di Fortnite. Oggi con Leggende di Luce e Ombra abbiamo la collaborazione con il gioco Destiny, andiamo a vedere, abbiamo Comandante Zavala, Ikora Rei e Ignota Exo, scendiamo per la carrellata veloce, poi abbiamo il bundle delle attrezzature della Leggende di Luce Oscura con Indaga, Lamento, Spezza Corone, Artiglio Nero e Astore. Scendendo ancora abbiamo in evidenza Leader Squadra delle Coccole, Incrociatore Coccoloso, Zampa Coccola, Mimetica Coccola, Beer Force One, Bagliore Coccoloso come copertura e ancora abbiamo Pit Stop, Pole Position, Miscela Esplosiva, la skin Asmodeus, un'altra skin Callisto, il gioco sporco come Piccone e il Pipistrello come Deltaplano. Scendiamo e abbiamo nei giornalieri Pesce Sicco, Atlantideo e Guardiano che era da un bel po' di tempo che non usciva ragazzi e poi abbiamo le moti Rinegato, Puro Sale, Svolazzo, Fuori di Testa e scendendo abbiamo ancora il sale livello e tutti i pack di Dragon Ball che ancora sono attivi e quindi bando di offerte speciali della Epic. Torno all'inizio ragazzi, poi nel frattempo mi raccomando un bel mi piace che è importantissimo e iscrivetevi al canale. Andiamo a vedere un po' tutto nel dettaglio, quindi andiamo a prendere il comandante Zavala è l'avanguardia della classe Titano e comandante generale dell'avanguardia dell'ultima città. Fa parte del set leggende di luce e oscurità la prima apparizione ovviamente è in questa season, in questa stagione. Abbiamo poi come suo backpack Targe questo backpack, questa sottospecie di drone che rimane attaccato dietro le spalle un pochettino di tutti quanti e la particolarità ragazzi è che come backpack è molto distante dalla nostra schiena, quindi non è attaccato come i soliti backpack che conosciamo in questo gioco. Ikora Ray, bella 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 ragazzi, molto particolare con questi costumi e anche lei ha il suo backpack, eccolo qui, anche lei ha il suo backpack molto particolare. Come vedete questa volta a differenza delle altre volte non ci cambia il personaggio per i backpack ma ci lascia lo stesso questa cosa secondo me ragazzi è stupenda. Dopodiché abbiamo Ignota Exo, vado a toccare il backpack e vedete il nostro personaggio è rimasto ed è rimasto anche il backpack. Questa volta ecco la Epic ha fatto una grandissima cosa, bella 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 ragazzi questo pack si porta a casa con 2700 vbag, che dire i personaggi sono belli, sono favolosi 2700 vbag per portarci tutto il bundle a casa. Abbiamo poi la possibilità di prenderli singolarmente 1500 vbag con il loro backpack ovviamente ognuno di loro, quindi Comandante Zavala, Ikora Ray e Ignota Exo ognuno di loro a 1500, scegliere quello ovviamente che preferite. Abbiamo poi la parte, il bundle delle attrezzature, quindi abbiamo Artiglio Artiglio Nero molto molto bello Spezza Corone, una spada bellissima ragazzi un Lamento, un altro Spadone e poi abbiamo Astore che è un Delta Plano con più stili selezionabili ovviamente uno stile per ogni skin nuova, lo shader Zavala, lo shader Ikora e lo shader Ignota Exo ragazzi, quindi una colorazione per ognuno stile, per ogni skin bello bello bello. Poi abbiamo un'emote integrata indaga, ecco questa volta la skin c'è la messa di quella che noi avevamo selezionato 1800 vbag ragazzi per portarci tutte queste attrezzature a casa poi possiamo prenderle singolarmente, indaga a 300, lamento a 800 spezza corone a 500 e Artiglio Nero a 500 e Astore a 800 scendiamo e abbiamo in evidenza il leader della squadra delle coccole un costume leggendario da 2000 vbag, girati un pochettino, ok, grazie e abbiamo il suo backpack, dorso decorativo, arco coccola il tutto per 2000 vbag, ragazzi io rimango convinto che sia veramente troppo comunque scendiamo e abbiamo incrociatore coccoloso deltaplano a 800 vbag abbiamo poi zampa coccola lo strumento di raccolta fa parte del set cuore reali stagione 7 e quindi beer force 1 il deltaplano cuori reali stagione 2 e la copertura la mimetica coccola cuori reali prima apparizione nella stagione 10 da 300 vbag abbiamo poi bagliore coccoloso un'altra copertura animata prima apparizione nel capitote della stagione 3 che spoggia il tuo stile, bello, 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 ragazzi 500 vbag ce lo portiamo a casa scendiamo e abbiamo pitstop da 1200 vbag un costume raro con più stili selezionabili il predefinito, il verde, viola e il giallo belli, belli, belli 1200 vbag per portarci questa particolarissima skin a casa abbiamo poi la controparte maschile pole position, sempre costume raro con più stili selezionabili andiamo a vederli, ovviamente il predefinito il verde, il viola ed il giallo anch'esso 1200 vbag per portarlo a casa abbiamo poi lo strumento di raccolta da 800 vbag con più stili selezionabili il verde, il viola ed il giallo miscela esplosiva il nome di questo picconazzo ovviamente fa parte dello stesso set delle skin che abbiamo visto prima squadra, corse, capitolo 2, stagione 4 abbiamo ancora Asmodeus il ritorno dopo qualche giorno qualche po' di tempo Asmodeus 1200 vbag dorso decorativo oculare bello, bello, bello Asmodeus con più stili selezionabili quindi il predefinito e il bandana è più bello con la bandana Callisto il costume raro lei su un solo stile selezionabile stregata il suo dorso decorativo 1200 vbag ragazzi ce la portiamo a casa gioco sporco che è lo strumento di raccolta fa parte del set tutti questi che abbiamo visto riti di battaglia stagione 9 800 vbag abbiamo poi il pipistrello il deltaplano raro riti di battaglia stagione 9 800 vbag scendiamo e abbiamo nei giornalieri pesce secco atlantidee ormai c'è spesso e volentieri fa parte del set pesce atlantide capitolo 2 stagione 3 come sua prima apparizione e il suo dorso decorativo scaglia titanica 1200 vbag per portarcelo a casa abbiamo poi il bellissimo guardiano guardiano costume non comune da 800 vbag prima apparizione stagione 5 ed erano veramente un sacco un sacco un sacco di giorni che non usciva 800 vbag ragazzi per portarlo a casa abbiamo poi 4 emot oggi il rinnegato 500 vbag vinci alla grande svolazzo remote rara è il massimo prima apparizione stagione 2 500 vbag ed è nostra puro sale condimento per ogni occasione stagione 2 la sua prima apparizione 500 vbag ed è nostra e fuori di testa abbandona ogni certezza prima apparizione stagione 7 200 vbag scendiamo e abbiamo il sale di livello sblocca ricompense e tutti i bundle della dragon ball abbiamo poi il bundle della epic ragazzi lo shop finisce qui io posso ritornare di nuovo in lobby per andare a fare qualche partitina io vi saluto vi do appuntamento allo shop di umani vi do un abbraccione forte e mi raccomando iscrivetevi condividete e mettete un bel mi piace al video ciao 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 ciao